Mamma mia che bella ragazzi Porsche 718 Boxster T un gioiello di macchina che però ha solo un difetto Non suona non suona la macchina è muta non si sente lo scarico fa schifo oggi andremo a migliorare Questo aspetto e la metteremo sul banco per dargli un po di cavallini vai con la sigla Ciao a tutti ragazzi bentrovati in questo nuovissimo video io sono lori oggi come avrete capito dall'anteprima Siamo qua in officina con una fantastica Porsche Boxster ultima versione con il motore 2000 Boxster In questo caso motore piatto con i cilindri contrapposti 2 litri di cilindrata da 300 cavalli monoturbo Con impianto di scarico originale che appunto come dicevo prima non suona perché tra catalizzatore OPF dispositivi antinquinamento vari Praticamente non si sente ma guardiamo un attimo anche questa configurazione perché secondo me merita una brevissima occhiata Tetto appunto in tela con vetro in cristallo e scusate che la macchina è bagnata ma oggi piove ma come si dice macchina bagnata macchina fortunata Belli anche le ruote guardate le ruote da ruote da 20 pollici col suo cerchio Porsche originale pinza a 4 pistoni davanti con freni forati autoventilati Al posteriore invece abbiamo una pinza sempre Porsche originale 4 pistoni col disco forato e autoventilato Per il resto è completamente stock non ha nessuna modifica vi faccio vedere i componenti che andiamo a montare oggi Ecco cosa andremo a montare qua c'è il suo attacco per la turbina qua c'è praticamente lo scarico che è composto in due pezzi Completamente libero che va a sostituire tutto il primo pezzo di scarico dalla turbina al terminale Andiamo a togliere quello originale che è più piccolo di sezioni e ha più restrizioni Per andare a montare questo ragazzon dalla sezione maggiorata e completamente libero Ah dimenticavo questa Porsche come tante altre macchine della casa di Duffenhausen Monta il cambio PDK cambio doppia frizione con le sue palettine al volante Il suo manettino qua di controllo che ci permette come vedete di andare a configurare le varie impostazioni normali Sport, Sport Plus e Individual Per il resto abbiamo sempre la sua valvolina allo scarico qua che si può andare ad aprire sul terminale originale Altri controlli abbiamo l'assetto sportivo che si può andare a selezionare di qua Controllo di attrazione e comandi capote Qua abbiamo la possibilità di andare ad aprire l'allettoncino posteriore Vedete che adesso l'ho aperto che si apre o automaticamente oppure potete scegliere di aprirlo in manuale Queste sono un po' diciamo le particolarità anche all'interno di questo veicolo Ma adesso alziamola e vediamo come è fatta sotto Allora abbiamo tolto la bandinella qua sotto in feltro originale Per farvi vedere anche come è fatto questo motore al suo interno Allora qua abbiamo come vedete la turbina generale qua con la sua Westgate Collegata direttamente all'impianto di scarico che andremo a sostituire Noi partiremo di qua andiamo a togliere questo bombolone qua originale dove c'è catalizzatore e OPF Che poi prosegue là qua lungo la linea Vedete che lo scarico è sia alla sinistra che alla destra essendo un motore Boxster E poi si congiunge vedete vieni qua che facciamo vedere Davide Si congiunge qua ai terminali che appunto ce n'è uno che parte da qua sopra il semiasse E un altro di qua che passa sopra l'altro semiasse E poi si va a congiungere a questi due silenziatori posteriori con valvola Adesso la valvola non mi ricordo se c'è sia da una parte che dall'altra Eccola qua la sua valvola Credo che ci sia solo dalla parte destra perché qua appunto non c'è Appunto quindi questo qua è valvolato Quello di Lanò e poi va in uscita sui suoi terminali Il motore sotto è molto bello molto ordinato Tutto alluminio ragazzi sotto qua non c'è ferro Se provate ad attaccare la calamita da qualsiasi parte della padina Non si attacca da nessuna parte Perché veramente sono fatti alla grande sotto queste macchine E niente cominciamo a smontare e vediamo un po' cosa succede Sono delle lambda staccate Siamo pronti per l'estrazione Eccolo qua, eccolo qua che viene Perfetto Allora Siamo quasi, vedete che quello originale è tutto un blocco unico Eccolo qua Eccolo qua Bene Questo è estratto Adesso cominceremo a rimontare il suo E vediamo come si comporta Pronti per fare un lancio e vedere quanto eroga questa belva In configurazione originale e con lo scarico ragazzone Perfetto Perfetto ma ragazzi dimenticavo la cosa forse più importante sentiamo il sound adesso con lo scarico perché ancora non ve l'ho fatto sentire macchina lanciata ragazzi guardiamo da originale i rilevamenti abbiamo ottenuto 303 cavalli con 367 newton metri considerate che queste normalmente da originali hanno sempre un po meno cavalli diciamo intorno ai 290 possiamo affermare che questo scarico ci ha dato quei 12 13 cavalli di surplus di potenza rispetto a un originale classico con la linea di scarico originale quindi partiamo adesso da questo punto vediamo cosa riusciamo ad ottenere andando a ricalibrare la centralina risultato finale siamo pronti per farvi vedere cosa abbiamo ottenuto dopo un po di lanci dopo un po di calibrazioni siamo giunti ad un optimum che è 365 cavalli con 458 newton questi numeri parlano di oltre 60 cavalli rispetto all'originale e 90 newton metri di coppia rispetto all'originale rilevato sono numeri che abbiamo volutamente tenuto così saremmo potuti salire ancora un po ma siccome il cliente questa macchina la usa per andare in pista per fare track day oltre che per uso personale chiaramente è importante garantirgli una massima affidabilità soprattutto andando in pista per mantenere temperature dei gas di scarico basse non avere problemi di surriscaldamenti e quant'altro quindi anche il lavoro di eliminazione opf si porta a scaldare molto meno i gas di scarico quindi trasferire molto meno calore verso la turbina e di riflesso nei confronti dell'olio che cercano la turbina e anche del motore quindi temperature più basse affidabilità più alta e ci siamo tenuti un margine per secondo me qua si poteva arrivare a guadagnare altri 10 12 cavalli tranquillamente ma come ho detto il cliente ci va anche in pista quindi vogliamo un mezzo affidabile con cui andare sempre full gas senza problemi e ragazzi io sono contentissimo del lavoro svolto anche perché le curve vedete che soprattutto questa qua di coppia ma anche questa di potenza non ci sono assolutamente buchi di potenza da nessuna parte la crescita è costante a tutti i regimi senza diciamo in esattezza a livello grafico sulla curva adesso non ci rimane che slegarla e andarla a provare su strada per vedere come si comporta ma mi raccomando ragazzi però prima di vedere la prova su strada ricordatevi di iscrivervi al canale di attivare la campanellina di iscrivervi alle nostre pagine social per rimanere sempre aggiornati e basta andiamo su strada scusate se c'è il flash acceso se vedete buio ma sono le 5 e mezza del pomeriggio e purtroppo qua se già il clima invernale è già buio quindi dobbiamo provarla su strada la sera anche perché dopo dobbiamo riconsegnarla al cliente adesso proviamo a testarla mamma mia se pattina stacchiamo il controllo di trazione altrimenti qua è un problema cerchiamo un tratto di strada dritto partiamo in seconda tiro incredibile ragazzi costante pieno sempre non me l'aspettavo sinceramente così perché la cosa bella è che tira tantissimo anche in alto questo motore per esempio a differenza dei 2000 vag quattro cilindri in linea questo motore boxer in alto fino oltre i 6.000 giri tira veramente forte e poi adesso ha guadagnato veramente tanta coppia sotto lavoro veramente eccellente perché questo motore boxer non fa assolutamente effetto drone risonanza adesso con questo scarico quindi anche se dovete affrontare un viaggio autostradale lungo non vi darà fastidio però quando accelerate a pieno a fondo il rumore è bello pieno corposo e profondo veramente godurioso come motore la macchina ha un gran bilanciamento veramente esagerato perché con 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 questo motore centrale posteriore e anche in curva si sente che la macchina è piantata sull'asfalto è veramente super da da guidare ragazzi spero che anche questo contenuto vi sia piaciuto sia di vostro gradimento e con il potere del boxer non mi rimane che dirvi sempre full gas grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti